Partiamo! Onoreveremo San Rocco Ogni anno, qualcuno mi dice C'è qualcuno che mi dice C'è il posto? Ok Quanto tempo? 30 minuti Questo? Sì F*** Eh? Uggh ma cantano vetti una crozza con gran dolore terza stazione si ora siamo arrivati al primo First break Innamora Chiamate come medico Che non c'ha pazzocchio Non era di qua? Ah è vero Ma che scemo Sono cotto Questa era la viaviazione Ma quanto sono babbo Perdonatemi Ma come ho fatto a sbagliare Volevo camminare di più Non si spiega Si è abbardito con un buon ritmo Hai visto? E finiremo con un ritmo di me C'è scritto speeder Non ho la scuola Se lo andiamo più piano Se lo andiamo più piano Se lo andiamo più piano Ho visto il tuo cuore Vistate Ho prima amore Ho prima e l'ultima zona Per me Ho prima amore Ho prima amore Questa non è più Molto più Ma non è più Eh no è mezz'ora dobbiamo arrivare non va bene se sei così veloce quando ti spombi subito non stai sbagliando devi partire sotto e poi accelerare dopo se non si è piuso un vecchio fa caldo? si la piuma è sempre secca di che è quel campo verde? non sai leggere i numeri romani? 6 ci sono altre 7 stazioni 14 8 altre 8 stazioni 8 stop non farò no non parli anche la prova la prova tutte e due ma l'anno si è finito no no ma se avessi partito tutto veloce va bene partire adesso questa è una camminata dalle balle questa quando hai camminato 5 ore in salita vabbè ma è mezz'ora qua adesso ti spompi pensi quelli che fanno forse in montagna sai c'è lo sport che non puoi fare cosa qua? lo fanno in alta quota che non lo fanno ma no perché non c'è la strada buona e quelli così coprono perché pensi che ha spaltato in montagna no vabbè ma c'è il settore più comodo no ma questo è già bello per andare in montagna sì sì è bello c'è la ringhiera ma noi in montagna questo è già uo che scarsi questa qua era una delle torre di guardia quasi eh questo è una delle torre di guardia del castello si 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 ci sono dei muslimi che arrivano dal coro e puoi preparare per la batta si per la scienza si si vas, vas, vas vabbè ah un po' di vento va ah ah bello pree è sì ma è cacaroccioli di crapa cacaroccioli di crapa cacaroccioli di crapa cacaroccioli di crapa ok 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 ti è entrata gente più grossa di te aspetta non ti vabbè attento che ti fai male che l'hanno tirato di qua hai capito gli stronzi guardano il drago il tatuaggio del drago ti darà la forza spingiti con le pietre bravo bravo vai che ce la puoi fare spingiti aiutatelo da dietro tanto non bloccare non ti blocchi hai visto metti una mano qui e una mano qui non è che ce l'hai fatta sei fuori hai visto che ce l'hai fatta si quello si però hai visto che ce l'hai fatta io che sono magrissimo non ci entri normalmente no non devi entrare perché l'illusione ottica è bella dice no io non ci entro io non ci entro e poi ci entrano tutti no però ti deve aiutare uno da un'altra parte che ti alzi i piedi perché sono impossibili sì e te per questo siamo perché non riesci sai a darti lo slancio qua what are you doing what are you doing ah visto lui proprio in scioltezza eh great anthony anthony the great it was easy no you say oh no it's so little it looks it looks is a it is an illusion you prove you pass the test now we can go next level 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 caracocciola di crappa shit 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 got shit nine station other other five no remigio non credo eh so that so Sì. Sì. I will need a shower after this. Yes. All right. All right. All right. All right. I shouldn't be popping this much. Go, go. 13 station. It's hard to breathe. Yeah. It's really hard. Yeah. 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 Wow. This one. Wow. 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 mi prende l'acqua nella bottiglia per i nasi di riposo non siamo finiti l'ora è ideale la vera ora la vera ora grazie per il davis per la vera ora di ascoltare mezzogiorno come si dice mezzogiorno di fuoco fire midday oggi stiamo qua 5 minuti ci abbronziamo troppo caldo ragazzi io spero ci fossero le nuvole anche io mi immaginavo così anche qua è umido non è come essere in montagna va viene c'è la vita come a Ferdinandè che era veramente umido qua sei sempre sotto il sole la città del sole è mica per niente eh? la città del sole è mica per niente va bene per un po' di aria almeno perché l'ha fatto sulla stretta? dai dìgliela quando ti senti bene up to the stairs and then make a picture i take a picture of you andrea did it yeah yeah last year you are like christ c'è gente maybe in the next episode in 10 minutes we are there yeah 10 minutes let's pump it quickly oddio nonostante che sia quest'ora c'è pieno di gente oh forco dio che cazzo di farfalla gigante è? farfalla butterfly andiamo vuoi andare? è perfetto stai sotto verso foto foto andrea non ne la manda no girarsi al coltello di mettersi dove cresce girati turn around this ladder is not safe no no si look at here è un po' in controluce però wait wait no ok no no ok don't care vabbè fagliela fare ah incrisci qui su qui su qui su qui su guardiamo ragazzi dai che se no non li ho dove qual era la strada io andrei di qua ah dammi lo zaino dammi lo tieni tu grazie ovunque 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 piano ma se mi sento proprio a pezzi ovunque Sì 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 Grazie. Grazie. Grazie.